Oggi preparo i lumaconi di pieni, ecco qui della De Cecco. Qui ho preparato un filo d'olio, ho soffritto la carne macinata, ho messo un po' di sugo e ho messo mozzarella, prosciutto cotto e mortadella. Adesso ci vado a mettere un po' di becciamella e un po' di formaggio. Ho messo un po' di pecorino, un po' di parmigiano, adesso ci vado a mettere un po' di becciamella e vado a rischiare il tutto. Ecco qui pronti il mio ripieno di lumaconi, vado a bollire un po' di lumaconi. Ho svolentato il mio lumaconi e qua ho messo il sugo che ho fatto a farlo facendo un attimo, adesso metterò un po' di becciamella. Ecco qui, adesso vado a riempire i miei un po' di succo, becciamella e formaggio. Ecco qui pronti per essere infornati i miei lumaconi ripieni. Ho messo il sugo, becciamella, parmigiano e mozzarella. Ecco pronti i miei lumaconi ripieni al forno. Ciao a tutti, buona domenica dalla Cucina di Stefi. Grazie.